Abbiamo fatto tutte le distruzioni, infatti, gli avvenimenti di rilevante inglese perché la storia è un altro scatto di vitalità, parlo chiaro. Il comitato per le feste civili, è usato alla comunità medica di preghiera di Santa di Grecia. Quest'anno c'è stata la grande idea della Bioscia che c'è un mondo carico, però è un comitato, è andato un po' aiutato per la realizzazione della progestione e anche del loro stesso recital che facciamo nel salone e che sarà il primo domani sera. Questa patria è questa che dobbiamo guardare. a quello più fedele può dare spontaneamente la propria collaborazione. Questo che ho detto significa che se ci sono alcuni che ancora intendono incendersi, ecco, lo possono fare liberamente nel prossimo anno pastorale. Quasi a conclusione di questa caratteristica, io continuo a sottolineare che con l'aiuto saliente e il prudente dei comunali assegnati alla pastorale di questa comunità, abbiamo camminato inizialmente a voi, sottolineando che noi siamo una comunità che preghiera. E quindi abbiamo fatto la liturgia, sia nelle sue repressioni che nel rispetto degli eviti, i rivieri di Gesù, inizialmente a fine delle catechievi. abbiamo curato inizialmente il servizio mediante l'aiuto ai poteri e ai poteri sottolineati, sia nel corpo che nei consigli, ed infine a tutti i grandi e piccoli abbiamo cercato di dare un cammino di bene inizialmente nella catechese di base e in quella dei vari rivisti, di cui la nostra parola è anche molto finita. Ecco via, inizio, per quest'anno prenderemo un cammino di catechesi rivolto a tutti quanti in Parigi, poi ci saranno inizialmente inizialmente, venerò in un'altra persona. Abbiamo anche il servizio mediato liberato il ruolo dei daici nel nostro cammino, non solo nella moglie della parola, ma anche nel carico di Gesù, sempre dietro la vita dei sacerdoti. anche inizialmente inizialmente abbiamo pensato inizialmente le nostre cose, perché ognuno potesse avere la possibilità di ricreare un ricorso di loro, ed anche inizialmente si sta lavorando con la vostra disponibilità e si sta realizzando dei buoni amici. Infine, si è appena esso anche di fare un piccolo accetto al sito parrocchiale con cui abbiamo comunitato con voi i parrocchiali. Quei sei inizialmente io vorremmo che migliorasse la collaborazione di altri disponibili. inizialmente non sono mancati per l'evitare oggi che ricreeremo. Quali l'obiettivo per il futuro? Partendo sempre dal Cristo Sacerdote Re e di Torino, in unione alla comunità di la città, nel suo cammino unitato, si cercherà di coinvolgere i vicini nell'unità tra loro e i nostri animali che rappresentano al Cristo Salvatore. In questo cammino ci sentiremo tutti poi in modo, sacerdoti e laici, in una comunione dei tempi di pastoranza. Buona volontà a tutti noi, sacerdoti e laici, in collaborazione con la grazia di Dio, che arrangerà il nostro cammino nel raggiungimento dell'obiettivo finale. Il Consiglio pastorale parruziale, organo operativo fondamentale del nostro cammino, attualmente è così composto. Il parlo con Padre Daniele, Padre Eugenio, San Francesco, Gianni Correlli, Basile e Maria Carmela, Bassa Lilliana, Cagliandro Grazia, Pelletti Leonardo, Caraventina, Sene d'Avella, Aguala Maria, Cagliere e Luciano, Martucci Antonio, Micoli Maria Rosario, Giuliano Gracià, Bellucci Pierio, Ruggero Gianni, Maria, Reino del beste Eugenio Maria, formato angeles, Semelago e Maria, Campanella, Flana, Cariere, di me. Mi auguro che abbia con questo mio intervento toccato le attività un'era vita della nostra lavoro e principalmente mi auguro che con il vostro missionario e io possiamo nei vostri anni raggiungere belle esperienze pastorali. Poniamo tutti, poniamo tutto nelle mani di Cristo re, il dolare della nostra parola, vi affidiamoci a una situazione diretta, grande e incertamente visibile. Questo è il fatto che io ho cercato di mettere insieme ricordando la mia attività di crescita in mezzo a volte. Vi ringrazio della pazienza di questa sera, e vi ringrazio principalmente gli essenziali stati vicini e di avermi aiutato e incoraggiato, mi sono sentito realmente, grazie a te che ho incoraggiato da voi, nelle proseguite. Avevo fatto le serie di certi una comunità che iniziava con 700 anni, dopo 15 anni più di 5.000. Poi sei anni con una comunità di quattro, nove anni con una comunità, circa 4 e 5, mi sono trovato con una vostra grande e bellissima comunità. Quattro, nove anni con una comunità. Io ho detto, c'era però, questa sera, posso dire che con voi siamo andati bene avanti. Grazie al Signore. Grazie al Signore e grazie a te. Auguriamo. Grazie. 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 Grazie.